Io vorrei che parlassero in numeri così i telespettatori li possano giudicare da soli. Le quattro prefetture abruzzesi hanno emesso bandi per l'assistenza di circa 3.000 profughi che arriveranno in Abruzzo. Molti pochi alla fine riusciranno ad avere lo status rifugiato politico e spenderemo come Stato italiano, come Regione Abruzzo, come prefetture 29 milioni di euro per 3.000 persone. Gli abruzzesi in difficoltà, famiglie inconclamate a accertare la povertà sono 70.000. Gli abruzzesi che hanno all'interno delle loro famiglie un po' di handicap grave altrettanto. Quindi stiamo parlando di 140.000 con nazionali e con regionali in conclamata difficoltà economica o fisica. Per loro la Regione Abruzzo spenderà circa 16 milioni di euro. Allora io mi domando come possa essere sostenibile un rapporto per il quale per 3.000 persone spendiamo 29 milioni di euro, per 140.000 abruzzesi in difficoltà ne spendiamo 16. Io credo che questo sia un razzismo al contrario. Grazie. Grazie.